Tra pochi giorni il comune di New Orleans eleggerà Doreen ambasciatrice di questa città e voglio che si senta in forma, voglio che si senta alla grande, voglio che capisca che non esiste nessuno che se lo meriti più di lei. Doreen è in una fase di transizione, sua figlia lascerà la band, non sa per quanto ancora riuscirà a suonare in strada e ciò potrebbe un po' spaventarla. Penso che farle capire l'impatto che ha avuto sulla comunità e il pubblico che si è costruita la aiuteranno a superare questi cambiamenti. Anche se ama la musica Doreen sta per iniziare un nuovo capitolo. Questa volta però vuole riabbracciare il passato e riaprire la pasticceria di Doreen. Voglio renderla entusiasta di questa sua nuova fase. Doreen è fantastica, voglio assicurarmi che durante la premiazione al museo sia ancora più raggiante perché insomma se lo merita davvero. A volte i piani che si fanno non vanno esattamente come previsto ma questa volta spero di poter aiutare Doreen a riaprire il negozio di sua madre così che possa iniziare a progettare il suo futuro.